Filosofare Avete fatto le vostre domande alla vizia? Oggi invece, stamattina invece, entreremo nel campo della filosofia classica, vera e propria, quella di cui ci parlerà il nostro filosofo, sulla tematica che noi conosciamo che è filia, va bene? Il nostro amico filosofo, che veramente siamo amici da anni, Simone Regazzoni, tra gli altri libri che ha scritto, l'ha scritto uno che si chiama, che ho letto e mi è piaciuto molto anche questo, La palestra di Platone, la palestra di Platone. E poi vediamo che cosa ci dice. E una cosa sola, Simone insegna all'IRPA, è un istituto di ricerca psicoanalitica diretto da Recalcati. Quindi il suo intervento filosofico è legato a un ampio arco delle scienze umane. Allora, ecco, molto piacere che vi presento Simone Regazzoni. Regazzoni. Grazie. Sono apposta? Buongiorno. No? Ora sì. Ok. Prima domanda socratica. Quante ore avete dormito stanotte? Poi vediamo perché è una domanda socratica. Quante? Tre? Due? Uno? Chi è che ha dormito un'ora? No. Chi è che non ha dormito? Neanche uno? Ok. Socrate nel simposio non dorme tutta la notte, beve vino annacquato, come era per i greci, parla di filosofia tutta la notte e l'unico che resta sveglio, alcibiade è ubriaco, perso, dorme, buttato a terra, esce e va direttamente verso la Gorà per ricominciare la sua giornata filosofica. Quindi, se avete dormito quattro ore, cinque ore, è poco filosofico come incipit. Visto però che vi siete riposati, vi chiedo un gesto e poi vediamo che significato ha. Vi chiedo di alzarvi in piedi. Sì, in piedi, tutti in piedi, subito. Fatica. Ok. Chi mi sa dire adesso che cosa ha a che fare questo gesto con la filosofia di Platone? Niente. Sedetevi di nuovo e adesso proviamo a vedere perché... Quando si racconta l'origine della filosofia vi viene parlato dell'origine del Logos, cioè di quell'unione tra linguaggio e sapere razionale che va a costituire, dopo un'epoca dei presocratici dove il Logos era ancora impastato col Mythos, l'origine del pensiero occidentale. Tutto vero. E tuttavia, se ci pensate, e voi lo conoscete, immagino, questo mito, quando Platone, nel mito della caverna, autorappresenta l'origine della filosofia, cioè descrive con un racconto come nasce la filosofia, non parla di linguaggio. Vi ricordate com'è il mito della caverna? Ok. I viventi umani in che postura sono? Sdraiati, seduti in piedi, corrono. Cosa fanno sul fondo della caverna? Sono seduti. Sono liberi? Incatenati. Cosa guardano? Le ombre su... Proiettate dove? Sul fondo della caverna. Un mega smartphone. E loro seduti incatenati di fronte a uno smartphone. Un prototipo di smartphone. Funzionava abbastanza bene, un po' arcaico. C'era un muretto dietro. C'erano dei profili di animali, di altri viventi ritagliati, dice Platone, nel legno o in altri materiali. Un fuoco dietro, un principio di protocinema che proietta le ombre sullo schermo. Si sentono anche delle voci, dei rumori o è un video senza sonoro? C'è anche il sonoro. Un video buono, aggiornato. Quindi la condizione umana per Platone è quella di viventi umani seduti davanti a uno schermo. Ricerche contemporanee ci dicono che ormai trascorriamo, tutti, compreso il sottoscritto, la maggior parte della nostra vita a 45 cm di altezza. Che è la postura costruita, studiata, non solo per stare seduti, ma per fare meno fatica possibile quando ci alziamo. In Oriente, ad esempio, c'è un'altra postura per stare seduti. Si sta seduti a terra. Noi i nostri letti, le nostre sedie, i sedili dove ci sediamo quando siamo in treno, in aereo, in nave, cioè tutti quegli spazi costruiti perché i nostri spostamenti in piedi siano sempre più ridotti, stanno diventando il nostro luogo esistenziale. Quindi questa postura, che non è che avete scelto, vi ci trovate, è una postura che sta costruendo sempre più una forma di vita. Ora, Platone, quando ci descrive la nascita della filosofia, ci dice una cosa. Il filosofo che cosa fa? Anche lui è seduto sul fondo della caverna. Non viene da un'altrove. Non arriva come una divinità dal cielo. È un uomo tra gli uomini. Ma cosa fa? Parla? Comincia a parlare con gli altri? Oh, ragazzi, svegliatevi. Cominciamo a interrogarci, dialoghiamo? No. Il dialogo avrà un ruolo capitale nella filosofia di Platone. Ma quando autodescrive il primo atto filosofico è un cambio di postura. Si alza. Si alza in piedi. Il filosofo è colui che prima di tutto, prima ancora di prendere la parola, irrompe nello spazio della polis con un cambio di postura. Si alza in piedi. C'è un verbo greco, anistamai, che vuol dire al contempo alzarsi in piedi e, ecco il riferimento anche alla vostra nottata, alzarsi dal letto, risvegliarsi. È un alzarsi in piedi che ha una valenza esistenziale. Alzarsi in piedi non è semplicemente cambiare postura fisica, è anche cambiare postura mentale. E' mettersi sull'attenti, uno potrebbe dire. Cioè prestare più attenzione. Perché? Perché quando sono in tutto sono molto più rilassato. Se in questo momento qualcuno gridasse qualcosa, voi non state seduti. O almeno lo spero. Vi alzate in piedi. Perché? Perché per prestare più attenzione, essere pronti a fare qualcosa, dovete attivarvi. Quindi è un'attivazione fisica e al contempo psichica. Anistamai è anche un verbo che ritroveremo nei Vangeli per dire la Ressurrezione. Quindi è un tornare alla vita. Quasi come che quella postura fosse un modo di vita addormentato, sopito, passivo. Si ricevono le immagini passivamente, le si guarda, come si scrolla su TikTok. A massimo metto un like, un breve commento, ma guardo, scrollo, io non faccio quasi niente. Ecco che l'inizio della filosofia è rottura, con una postura passiva, in cui io incorporo immagini su uno schermo, io non so neanche da dove vengono, io non mi pongo il problema di dove vengono queste immagini. Penso che siano la realtà, oppure non mi interrogo sulle immagini. Allora il primo dato non è interrogarsi, è cambiare postura. Quindi mi alzo e poi faccio un altro gesto rispetto a quelle immagini che erano le vere catene per me. Cosa fa il filosofo dopo essersi alzato? Si guarda intorno, esce dalla caverna, ma va all'indietro o fa un altro gesto? Lui è seduto davanti allo schermo, l'uscita è dietro. Cosa farà? Si gira. E' un verbo, di nuovo, periagogeine. E in greco è, ve lo dico, non so se siete dello scientifico, del classico, ma non importa. Imparate una parola in più. Impariamo a pensare attraverso le parole. Non è detto che lo dobbiate già sapere, anzi se lo sapete è già inutile. E' utile se io ve lo dico e voi non lo sapete. Periagoge oles tes psuches. E' la torsione di tutta l'anima. E' una parola che viene dall'ambito atletico. Avete mai visto il discobolo, o almeno una rappresentazione del discobolo di Mirone? La postura è retta, ma c'è una torsione del busto per poter dare slancio al disco che è in mano. E' una parola che viene dall'ambito dell'allenamento, perché chiunque si alleni sa che uno degli elementi fondamentali dell'allenamento è quello che chiamano il core. Cioè la parte addominale. Da qui viene la vostra postura. Da qui se combattete, io faccio arti marziali, vengono i calci, se fate box vengono i pugni. I pugni non vengono dalle braccia, vengono da una torsione del busto e delle gambe. Quindi Platone, che adesso lo vedremo a un rapporto particolare con l'atletismo, dice filosofia è agnista, ma è alzarsi in piedi, torsione dell'anima su se stessa e cominciare un'ascesa in salita verso il fuori. Può stupire tutto questo. Qualcuno dirà, beh, è un mito, ci sta rappresentando qualche cosa. Attenzione perché i miti hanno una valenza euristica, epistemologica, cioè conoscitiva, enorme, anche per Platone. Potremmo dire che di più, come sono sostenuto diversi studiosi, il mito non è semplicemente un momento precedente la razionalità. È anche il punto in cui la razionalità va in crisi. non ho più le parole razionali per spiegarmi e ricorro ad una storia, ad una narrazione. E in quella narrazione ogni immagine è importante. Come se avesse scelto Platone a un certo punto delle sue opere di inserire dei brevi filmati. Cerca una messa in scena, cerca dei personaggi, cerca delle figure. Devono avere un certo impatto, attrarre la vostra attenzione. Voi siete lì in mezzo a ragionamenti filosofici e poi arriva il mito, vi risveglia. Ecco, questo mito ci sta dicendo delle cose importanti. Quindi quella postura, quel cambio di postura lo dobbiamo prendere sul serio. Eppure la filosofia, dicevamo, è linguaggio, è logos. Perché il corpo? Perché questo coinvolgimento anche metaforico, mitico del corpo, in un filosofo che, così insegna una certa vulgata, è il filosofo delle idee, che non ama il corpo, che lo considera una prigione, uno spazio da cui evadere. Addirittura Soma, Sema è un gioco tra corpo e tomba. È vero, nel Fedone Platone ci dice questo. Ma non ci dice solo questo. Platone è un pensatore molto più complesso di qualsiasi riduzione. O meglio, è un pensatore talmente ricco che ogni epoca, con la sua sensibilità, ne ha dato una nuova interpretazione. Abbiamo l'interpretazione che viene subito dopo dai suoi scolari, abbiamo l'interpretazione neoplatonica, abbiamo l'interpretazione rinascimentale, abbiamo l'interpretazione dell'Ottocento e poi quella della scuola di tanti Platone. Ma qual è quello vero? Non c'è un vero Platone. Il punto è come sappiamo noi, voi, perché poi qui si passa al testimone. Come una staffetta che inizia dall'Atene del IV secolo e arriva a voi. Non è detto che qualcuno la prenda. Però ogni generazione ci prova a trasmettere. Guardate che l'importanza di essere qui, il fatto che i vostri docenti vi abbiano portato qui, è anche per provare a vedere se quella staffetta passa di mano in mano. perché quelle rovine che andate a vedere, questi spazi, questi luoghi, diventano muti se non c'è qualcuno che li porta in qualche modo in sé, comincia a dialogare a suo modo, in maniera libera, in qualche modo, a portarsi dietro un pezzo di quell'eredità. Voi siete qui per provare a vedere se qualcosa può incidere su di voi. E non è così semplice. La distanza è enorme, la vostra sensibilità è radicalmente diversa e tuttavia, anche se solo andate a leggere in maniera un po' diversa quel mito, potete vedere che forse vi parla. Platone con un orecchio contemporaneo, parlando di quei prigionieri di fronte a uno schermo, non è così distante da noi. Senza con questo fare, perché io non li amo, i discorsi di alcuni filosofi contemporanei che condannano i social, condannano i cellulari, eccetera. No. Platone lo dice. Uno strumento in sé non è né buono né cattivo. Il punto è come ci addestriamo noi, e uso questa parola platonica, cognitivamente, mentalmente, emotivamente, fisicamente, nell'uso di queste cose. Se non ci addestriamo, cioè se non abbiamo un certo tipo di preparazione e consapevolezza, quell'attivazione consapevole di quando ci alziamo in piedi, diventiamo strumenti passivi di uno strumento. E allora lì sì, qualche cosa secondo me non funziona. Se io ne faccio un uso attivo, consapevole, critico, benissimo. Lo strumento è qualcosa che può andare a potenziare anche la stessa filosofia. Ma torniamo a Platone. Perché questo gesto? Perché quel filosofo delle idee dovrebbe preoccuparsi del corpo? Io oggi avrei voluto essere in un altro luogo, ma ci sono problemi logistici, non possiamo essere là, quindi dovremmo fare un'operazione che si chiama non solo di pensiero, ma di visualizzazione. Che è una cosa, secondo me, molto interessante. Di solito siamo abituati a trasmettere il sapere in termini di parole, voi ascoltate, cogliete il senso, ma non vedete. Chi fa sport, di nuovo, sa che allenarsi vuol dire visualizzare, non solo pensare. Se io faccio tennis, basket, arti marziali, eccetera, certi movimenti, non posso solo sapere come avvengono, ma quando mi allungo devo visualizzarli, devo vederli. Perché il mio cervello fa un lavoro diverso, se pensa attraverso le immagini. A livello anche neuromuscolare, il cervello si attiva come se facesse quel movimento. Quindi io vi chiedo di fare un'operazione di visualizzazione per capire dove nasce la filosofia. Mi interessa adesso materialmente dove nasce. Vedere. Di solito la risposta è nella Gorà, nello spazio pubblico, nella polis, nel mercato, Socrate che cammina. E' vero, questo ce lo racconta soprattutto Platone. Ma se noi pensiamo alla prima istituzione filosofica, cioè l'Accademia di Platone, le cose sono diverse. Per arrivare all'Accademia dovete camminare, io e mia figlia lo abbiamo fatto l'anno scorso a piedi, essere figlia di un filosofo al suo peso, cioè andiamo a piedi dal centro di Atene fino alla palestra di Platone. E vabbè. E ci siamo fatti questo viaggio fino in periferia. Perché? Perché era lo stesso viaggio che i giovani della vostra età facevano per cosa? Per andare in questo luogo straordinario. C'era Atene, c'era la sua pedagogia, c'era un modello di educazione, eccetera. Per i giovani non era stimolante. Succede qualcosa. Alla periferia di Atene, un chilometro e mezzo fuori, in un parco dell'eroe Accademo, c'è un ginnasio. E' quello che il giovane Platone frequentava combattendo, faceva il lottatore. Lì apre la sua scuola, 348 più o meno, e i giovani cominciano ad arrivare lì. Perché? Perché questo dice cose diverse, ma radicalmente diverse. Gli dice dovete alzarvi in piedi, dovete imparare a dialogare in maniera critica, a mettere in discussione tutto quello che vi passano come fossero verità, che dovete ricepire passivamente. Arrivano dalla polis che lavora come un grande schermo, con una potenza teatrale anche, perché c'è il teatro che lavora in questo senso. Lui dice, proviamo a fare qualcosa di diverso. Provate a prendervi, dice, curavi di voi stessi. Epimele yayautu. Cominciate a pensarvi come una sorta di creta da modellare. E dovete lavorare sia sul corpo sia sull'anima. E io dice, lo faccio qui. Dovete pensare, per ora prendiamo un rettangolo, 42 metri per 72. Questo è uno spazio, però lo vedete come uno spazio vuoto. Vi hanno raccontato che all'ingresso di questo spazio c'è scritto, qui non può entrare nessuno che non abbia studiato la geometria o la matematica. È una cosa che arriva in seguito. In realtà dalle fonti antiche sappiamo che non c'era questo. C'era però un altro elemento. Chi poteva entrare in questo spazio nell'Accademia di Platone, secondo voi? Solo uomini, anche donne? Solo cittadini o anche schiavi? Porsi la domanda sulla materialità di questo spazio significa anche porsi delle domande su chi ha il diritto di accedere a quello spazio? Uomini. Nell'Accademia di Platone donne, cosa non da poco, ma si devono formare come gli uomini, anche schiavi. Così ci dicono le fonti antiche. Non c'è scritto nulla sulla geometria o la matematica, benché Platone le amasse. Però noi dalla Repubblica sappiamo un'altra cosa. Che chi ama la filosofia, o chi fa filosofia, deve anche amare un'altra cosa, dice. Chi ama la filosofia non può essere zoppo, dice, nella filoponia. Che significa amore della fatica. Quell'alzarsi in piedi che all'inizio... Che noia! Cioè non dovete odiare la fatica, altrimenti non fate filosofia. Però dice non bisogna essere zoppi nella fatica. Perché? Perché dice sì. Vuol dire faticare per plasmare la vostra anima, studiare. Ma al contempo dice faticare per allenare il vostro corpo. Perché Platone pensa a un synamphoteron, lo dice nel Timmeo. Cioè un'unione, un plesso di anima e corpo che devono lavorare insieme. Poi è evidente che l'anima ha un valore superiore. Ma Platone non parla mai solo di lavoro su anima. Nessun greco del IV secolo lo potrebbe fare. Questo ce lo dicono studiosi come Ado, come Foucault. Il lavoro per Platone, come per qualsiasi pensatore del greco del IV secolo, è un lavoro sul plesso mente-corpo. Non c'è quell'odio del corpo che arriverà dopo. Il neoplatonismo. In parte, dico in parte perché non è sempre così semplice, col cristianesimo. Qui c'è un corpo che deve lavorare in un connubio con l'anima. Che non è altro che una dynamis, una potenza di movimento per il corpo. Si è morti quando si è fermi, quando non ci si muove più. L'anima è una potenza di movimento. Per questo quella postura seduta immobile con le catene addosso è una quasi morte. E la filosofia è una sorta di resurrezione. Mettere in movimento l'anima, accendere la scintilla dell'anima significa mettere in movimento il corpo. Quindi per entrare dovete fare fatica. Ma perché? Perché secondo voi è importante la fatica? Perché Platone, come tutti i filosofi, è un sadico? A cosa serve la fatica? C'erano stamattina tre ragazzi. Sono andato a vedere la sala fitness stamattina. C'erano tre ragazzi. Chi erano? Non so se sono qui. C'era nessuno della... sono ancora in sala fitness. Quelli che sono in sala fitness secondo voi non erano... Eravate voi in sala fitness stamattina? Mai allenato in vita? No io. Secondo voi perché sono andati in sala fitness? A fare fatica. Perché si fa fatica. Cominciate a dialogare. Qualcuno di voi fa fitness? Fa un po' di ginnastica? Sì. Perché? Si alzi, si alzi, ormai bisogna alzarsi in piedi. Così è più a suo agio. Sì, sì, lei, lei, lei. Non faccia figlio. Perché? Perché le piace. Le fa bene a cosa? Ok. Fisicamente e mentalmente. Le piace, la fa star bene. Quindi rispetto a una condizione pre-allenamento c'è una progressione. Sta meglio. Sta meglio. In tutti i sensi. La fatica è la misura di una trasformazione di sé. E si auspica che sia verso il meglio. Non vado ad allenarmi dopo per essere... stare male, essere più grasso, più pesante. No. Poi nell'immediato non sto magari benissimo fisicamente, ma già mentalmente vi sentite meglio. Quindi la fatica non è altro che la misura della trasformazione di sé. Se io non sono disposto ad accettare quel pezzetto di fatica, io non cambio. Fine. Posso restare come sono. Posso farmi andare bene me stesso come sono. ma nel momento in cui voglio cambiare si innesta la fatica. Perché? Perché noi siamo abituati a conservare il più possibile la nostra condizione. Cambiare idee è difficile. Crea fatica. Devo mettermi in discussione. Devo staccarmi da cose che pensavo vere. Cambiare postura. Alzarsi in piedi. Crea fatica. Sto meglio seduto, eccetera. Allora 45 centimetri d'altezza così non devo fare uno squat troppo duro, eccetera. Platone lo sa. Perché dicevamo è un atleta. Quindi all'ingresso della palestra vi dice qui potete entrare solo se siete disposti a faticare. Ma non perché io sia un sadico. Perché è l'unica condizione che avete se volete diventare cito Platone migliori il più possibile. Dove migliori il più possibile è una ricerca dell'eccellenza secondo la formula della calosca gazzia per cui la bellezza estetica non è semplicemente l'apparenza la cura del corpo per apparire ma è il momento in cui la mia miglioramento interiore si manifesta. Il mio corpo trasmette qualcosa sempre. Se io sto meglio il mio corpo lo trasmette. Se io sto male il mio corpo lo trasmette. Ci sono degli esperimenti fatti dalle neuroscienze che ci dicono che a secondo le posture che noi adottiamo cambia la nostra percezione emotiva interiore. se io sto seduto e ripiegato così a parte che non mi ispiro grandissima diciamo gioia e felicità negli altri ma accade anche a me. Se io mi alzo in piedi apro le spalle apro le braccia già succede qualcosa alzatevi in piedi non datevelo in faccia alzatevi in piedi cambiate postura. respiro, guardate il mare di fronte staccatevi dai cellulari guardate il mare di fronte a voi. Nello yoga come in tutta la tradizione orientale il cambio di posture l'apertura del petto mette in moto delle energie interiori. Potete tornare a sedervi. In occidente noi abbiamo dato sempre meno valore alle posture come se fossero qualcosa di irrilevante quindi non solo stiamo seduti ma stiamo seduti male ci stravacchiamo ci ripieghiamo perché non riusciamo più a stare composti e ci sembra un'imposizione lo stare composti in realtà è perdere la consapevolezza che questa nostra parte esterna tra virgolette il nostro corpo è un elemento prezioso per pensare per essere in qualche modo. Il corpo è un'istanza di pensiero. Ecco quello che non solo vi ricorda Platone adesso lo vedremo ma tanta filosofia contemporanea tanta filosofia contemporanea ha cominciato a ricordare penso Nice che il sedere di pietra è il vero peccato contro lo spirito Nice non ci sono pensieri buoni che non siano una gioia anche per i muscoli Nice stare seduti il meno possibile Nice camminava sette otto ore al giorno perché perché Nice insegnava filologia all'inizio Nice conosce benissimo il mondo greco Nice è uno straordinario lettore di Platone poi combatterà tutta la vita con Platone perché lo sente al contempo vicino e distante c'è un amore e odio ma Nice è consapevole di questa dimensione di una centralità del vostro corpo per pensare per esistere se il vostro corpo si muove male voi esistete male se il vostro corpo vi è d'impaccio o non vi piace voi state male e potete raccontarvi tutte le cose politicamente corrette sull'accettazione del corpo ma se non siete disposti a fare un minimo di sforzo per cambiarlo perché è trasformabile voi vivete dentro una gabbia per cui no ma io sto bene ma va bene così è bello così eccetera non devo farmi problemi se non mi viene l'ansia eccetera eccetera ma va bene un po' di ansia se fate fatica a vivere anche un po' d'ansia ma la dovete superare se no non entrate nella palestra torniamo nella palestra l'ho chiamata palestra avevo detto un rettangolo 42 per 72 aggiungiamo dei pezzi lì c'è l'ingresso qui dietro ci sono delle stanze Platone ci abita per un certo tempo quindi c'è sicuramente una stanza col suo letto c'è una biblioteca Hegel dice che Platone aveva speso tantissimo per comprarsi rotoli di presocratici e altri pensatori Simon Critchley filosofo inglese molto bravo nel 2019 sul New York Times scrive un reportage viene qui in Grecia come voi va a vedere l'Accademia di Platone e dice era una protobiblioteca sì sì era una protobiblioteca non simile alle nostre università però qualcosa di simile dove si leggeva e si dialogava avrebbe dovuto intanto ricordare che si leggeva ad altavoce perché era qualcuno che leggeva per voi non c'era la lettura interiore come la consideriamo noi oggi ma lasciamoglielo passare quello che non gli possiamo lasciar passare gli ho anche scritto a Critchley è che quella quel luogo fosse una protobiblioteca c'era una piccola biblioteca però in fondo c'erano altre due stanze una per potersi lavare dalla sabbia e dall'olio che con cui si era cosparsi il corpo per combattere due c'era la sala per mettersi l'olio e la sabbia che veniva importata dall'Egitto tre al centro di questo ginnasio la cui traduzione è palestra c'era un altro rettangolo più piccolo che si chiama palaistra o palestra che era il rettangolo dove si faceva la lotta alcuni storici contemporanei non poco attenti hanno detto si lui prende il suo vecchio ginnasio perché è vero che da giovane faceva il lottatore e lo trasforma in un luogo per il dialogo sbagliato come ormai da molti anni si comincia a dire a partire dagli studi archeologici sulla palestra a partire dagli studi di filosofia dello sport negli Stati Uniti a partire ad esempio da uno studioso come Enrico Berti in Italia che ha scritto un testo sull'Accademia questo luogo è una vera e propria palestra Cicerone dice la palestra più famosa di tutto il mondo la palestra dove ci dice di oggi nell'Aerzio si dialoga e si combatte al contempo dove si dialoga 42 per 72 abbiamo detto però non è tutta scoperta ci sono dei portici con delle colonne che ricoprono i tre lati dietro abbiamo le stanze Platone esce dalle sue stanze dialoga sotto i portici come camminando non so se alcuni di voi siete le scuole che hanno ricevuto del materiale che ho mandato no ok avevo mandato una foto una ricostruzione che avevo trovato proprio l'anno scorso al museo di Atene del ginnasio i filosofi e altre persone dialogano sotto i portici al centro ci si allena ma c'è un rapporto diretto senza soluzione di continuità tra il parlare e l'allenarsi ma lo vediamo nei dialoghi platonici nell'Isile ad esempio in altri Socrate viene invitiato viene a vedere nella nostra palestra abbiamo una palestra nuova dei giovani lottatori entra dialoga alcuni dialogano con lui poi scusa dice il maestro di allenamento mi chiama ma va allenarsi e poi torna a parlare con lui questa era la dinamica la dinamica a tal punto compenetrata che i dialoghi platonici sono intrisi di metafore lottatorie adesso buttiamoci su questo logos come dei lottatori adesso Socrate ha dato un pugno allo stomaco nel protagora si dice lasciando l'avversario senza fiato e così via dicendo addirittura ci sono dei dialoghi che si svolgono in uno spogliatoio per la lotta e Socrate parla con due sofisti che sono anche due lottatori di Pancrazio il Pancrazio è il predecessore di quelle che oggi vengono chiamate le Mixed Martial Art cioè si combatte in piedi e si combatte a terra Platone non amava il Pancrazio preferiva la lotta vera e propria e il pugilato tenendoli separati bene quindi abbiamo l'origine della filosofia che è rappresentata nella caverna di Platone come un alzarsi in piedi in una palestra la filosofia nasce in palestra è una delle affermazioni inconfutabili poi ci si può dividere tra chi dice prevale più una cosa o l'altra ma è inconfutabile che la filosofia nasca in una palestra come esercizio di cura di sé del plesso mente corpo della vostra totalità l'immagine che abbiamo del filosofo però non è certo di una persona in forma ai tante nel pieno delle sue forze muscoloso lottatore eccetera l'immagine di Platone ancor meno se dovete visualizzare Platone come lo visualizzate l'immagine di Platone giovane o vecchio vecchio filosofo è vecchio infatti quando filosofo un po' più giuro io sono vecchio perché ho 50 anni ma filosofo già alla mia età è filosofo non c'ha la barba lunga non ha la giacchetta non è un po' non è tanto affidabile come filosofo il filosofo deve avere una certa diciamo così aura di sapienza che gli viene dall'età ma quel filosofo con la barba con quella tunica magari al dito rivolto verso il cielo dove lo avete visto? perché da qualche parte lo avrete visto se voi lo immaginate dite dite scuola di Atene di tar Raffaello e Raffaello quando si immagina Platone così da dove lo prende? da Leonardo il modello di sapiente che voi avete ricevuto passivamente perché non vi siete mai posti il problema ma Platone sarà mai stato giovane? cosa faceva da giovane? quando aveva la mia età che faceva? studiava tutto il giorno? si allenava pressoché tutto il giorno però voi vedete Leonardo perché è un modello di sapienza rinascimentale quindi l'apice del suo fos per Platone sarà Leonardo in più il dito rivolto verso il cielo perché guarda le idee ha sotto mano il timeo perché il timeo è il dialogo almeno a pezzi l'unico sopravvissuto attraverso il medioevo tradotto in parte di Cerone da Calcidio arriva quindi a un dialogo fondamentale però è il dialogo dove Platone parla tantissimo di corpo e parla di unione mente corpo quindi quello lì è Leonardo ma Platone non era Leonardo Platone ha 40 anni quando apre la sua palestra e i diciamo i dossografi gli storici antichi che erano assolutamente sensibili a questo dato ce lo descrivono come uno straordinario sportivo ieri eravate a Delphi voi ok io cercavo di andare a vedere sullo stadio ma era chiuso volevo andarla a vedere perché secondo alcune fonti lì combatte Platone e la cosa mi emozionava tantissimo vedere lo stadio dove ha combattuto Platone io volevo andare lì a toccare la terra modello un film di anni fa che magari non avete visto che si chiamava il gladiatore che entra prende un pugno di terra e se lo passa da tra le mani i lottatori lo fanno sempre quindi volevo andare a fare quel gesto platonico di nuovo perché i gesti ci mettono in connessione col pensiero quando vi rapportate tra di voi lo sapete prima ancora delle parole sono il modo in cui vi muovete guardate gesticolate che danno un impatto sugli altri ebbene Platone avrebbe combattuto lì perché perché lì si svolgevano ce l'hanno detto ieri i giochi pitici le fonti ci dicono Platone combattè ai giochi pitici ai giochi istmici all'eneme secondo altre fonti ma meno affidabile vinse addirittura le olimpiadi perché perché era molto forte nella lotta quindi il prototipo del filosofo è un giovane campione di lotta che da un certo momento in poi tiene insieme questa sua grande passione con l'invenzione di una forma di sapere come cura di sé elevazione adesso aggiungeremo poi dei pezzi e però non c'è una cesura quindi non è Leonardo non è il modello del sapere rinascimentale è un modello assolutamente greco aggiungiamo un altro tassello poi uno potrebbe dire sì ma questo è un pezzo della storia c'è un altro Platone ve l'ho già detto è vero non si tratta di dire qualcosa di vero è più falso più è complessa l'immagine che abbiamo più è ricca allora lì sì che ci avviciniamo a una qualche verità se ne escludiamo dei pezzi diciamo no solo questo è vero noi perdiamo la ricchezza di Platone ma partiamo adesso siamo partiti dalla visualizzazione torniamo alle parole un nome proprio che forse non è neanche tale Platone non è il suo nome? no come si chiama? Aristocle bene perché Platone? qui si aprono varie interpretazioni eh? spalle grandi platus spalle ampie Diogene Laerzi aggiunge ed è interessante per le spalle ampie per la fronte ampia e per l'ampiezza del suo stile di scrittura sta mettendo insieme corpo e scrittura platonica corpo e pensiero di nuovo il corpo diventa un modo per leggere il suo pensiero il grande pensatore ha anche un corpo possente ma poi magari non è vero ci interessa meno ci interessa meno ci interessa che nella percezione antica un pensiero grande doveva essere rapportato ad un corpo con una certa forza dynamis tenete a mente questa parola perché ci arriveremo alla fine del nostro discorso quindi questo Platone era possente secondo alcune traduzioni platistatos oltre a essere il nome di un pesce ma lo dice Diogene Laerzio vuol dire anche il più grande Platone è colui che è il più grande c'è stato un grande atleta a suo modo filosofo a cui un filosofo telefonò in un certo momento della sua vita Mohammed Ali un pugile che si proclamava il più grande qualcuno che ha combattuto sul ring ma ha usato lo sport per veicolare un messaggio politico di lotta razziale per un sovrappiù di giustizia per migliorare non solo la propria condizione ma le condizioni degli altri in qualche modo salì sul ring contro gli Stati Uniti gli Stati Uniti persero contro Mohammed Ali Platone in qualche modo con la sua palestra ingaggia una lotta con Atene perché aveva commesso un'ingiustizia enorme aveva ucciso l'uomo giusto per eccellenza Socrate ecco che lui non si vendica non si ribella nei termini di un atto in consulto lui costruisce uno spazio per dare modo ai giovani di sperimentare un altro modo di esistenza migliore più giusto perché non si ripeta più quello che è accaduto ecco la filosofia che nasce lui prende i pezzi che ha sotto mano è uno della vostra età e comincia a pensare come rispondere a un'ingiustizia che ha visto e sperimentato poteva restare passivo poteva starsene seduta a vedere non ci posso fare niente ho inciso Socrate fine tornerò a scrivere tragedie faccio carriera politica c'ho gli agganci ce li aveva lo zio altri invece no si alza in piedi e pone uno spazio tra la città e il suo luogo tra Atene tra le mura e il suo luogo dalla Gorà alla all'Accademia c'è una strada passa attraverso il ceramico il cimitero quella strada stessa da un certo momento poi si chiama ceramico e chiede ai giovani di fare questa operazione che è già mentale prima ancora di iniziare a dialogare uscite dalle mura dalla città uscite da quello spazio provate a mettere in discussione quel modello che vi viene proposto venite a pensare qui quindi già il movimento che chiede è di uscire fuori e Aristofane darà una descrizione straordinaria dice quando viene primavera si vedono questi giovani che vanno correndo dal centro di Atene fino alla palestra di Platone e odorano di smillace e pioppo e sono possenti e sono giovani dice anche aggiunge perché fa parte della visione greca questo poi possiamo dissentire hanno anche il membro breve perché questo fa parte di armonia e bellezza ecco i giovani che corrono per andare a allenarsi nella palestra di Platone ma non allenano come nella palestra nostra di fitness o solo i muscoli per guardarsi allo specchio farsi la foto dopo tre secondi e dire sono perfetto non interessa questo il corpo è usato per lavorare sulla mente ecco un'altra grande intuizione platonica per formare un soggetto dobbiamo formare un etos una postura un modo di essere di comportarsi soprattutto nelle situazioni difficili l'etica vi serve lì quando vi richiede uno sforzo l'etica è un modo per gestire il vostro sforzo mentale psichico nelle situazioni di difficoltà quando se seguiste semplicemente quello che vi viene più comodo probabilmente fate la cosa eticamente sbagliata ecco di nuovo la fatica non è solo una roba fisica serve nei momenti di difficoltà quando devo prendere le decisioni difficili tanta fatica quando devo fare un atto giusto che comporta delle conseguenze per me negative moltissima fatica l'uomo che ha fatto più fatica e che è stato un modello per Platone è Socrate poteva uscire dalla prigione Socrate sì anzi a te ne l'avrebbe anche lasciato così si toglieva questo problema e glielo dicono possiamo farti fuggire dice ma io non posso ho insegnato per tutta la vita questo e pagherò le conseguenze dei miei atti berrò il farmacon questo attenzione veleno che però in greco vuol dire veleno e rimedio cioè quella cosa che ci sembra più negativa può anche essere quella prova che ci permette di innalzarci nel modo più alto possibile in fondo se ancora noi oggi parliamo di Socrate e Platone se gli antichi ci hanno conservato i suoi dialoghi e non gli altri centinaia che c'erano noi parliamo di Platone ma i Socrati coi logo i dialoghi Socrati ce ne scrivevano tantissimi abbiamo conservato quelli perché dietro c'è stato qualcuno che beh ha preso una decisione non da poco per testimoniare la giustizia ha in qualche modo sacrificato la propria vita come diceva il mio maestro io sono stato allievo di un grande filosofo francese che si chiamava Derrida la vita non vale niente se non vale più della vita che sembra un gioco di parole ma se la vita non vale qualcosa di più del fatto semplice biologico di vivere beh allora non è una vita con un certo senso dare un significato alla vita vuol dire compiere tutta una serie di atti dai più piccoli ai più grandi e spesso ci sono atti piccoli che hanno valore in cui costruisco quel senso che mi eleva un qualcosa di più che la semplice vita biologica ma perché Platone ha bisogno del corpo per fare queste cose non poteva mettersi lì tutti seduti come fate oggi voi perché questa ormai è la postura che adottiamo per l'insegnamento per gli antichi non era così si camminava e si dialogava si camminava lungo il mare si camminava in un altro posto e si dialogava ha bisogno del corpo lui poteva fare una lezione di etica di meta etica come direbbe qualcuno che è qui però non la fa semplicemente chiede un lavoro sul corpo perché ha una visione dell'etica che è quella dell'etica antica che si chiama etica delle virtù e la virtù fondamentale per gli antichi sapete qual è? intelligenza? non è neanche una virtù coraggio il coraggio è una virtù che può avere sia una connotazione negativa che positiva possono essere coraggiosi anche delle persone malvagie e tuttavia è fondamentale perché? perché è la capacità di resistere nei momenti, nelle situazioni difficili nelle decisioni difficili quando si prova paura il coraggio è una certa forza della paura Aristotele ce lo dice non è non avere paura chi non ha paura non ha in alcun modo coraggio è un non stolto il coraggioso è uno che prova la paura ma la domina sa resistere alla paura sa fare quello sforzo che gli impedisce di scappare di fronte alla decisione o di scappare di fronte a un pericolo semplicemente sa fare quello sforzo che nel simposio ci dice Platone fece Socrate durante una battaglia tutti anche i valorosi soldati erano rinchiusi perché faceva freddo Socrate era fuori con i sandali con semplicemente una tunica al freddo a fronteggiare le avversità e salvò anche un guerriero abile come Alcibiade e potente quindi il corpo serve per sviluppare alcune virtù in primis il coraggio che a livello semplicemente intellettuale non potete sviluppare voi potete ascoltare 200 lezioni sul coraggio di filosofia e rimanere dei pavidi so cos'è il coraggio ma quando mi trovo nella situazione io ho paura ci sono delle virtù che non si possono trasmettere semplicemente in maniera intellettuale questa sarebbe un'illusione intellettualistica dovete in qualche modo fare una cosa ripetere rimettervi in una certa condizione difficile e ripetere quel gesto perché in voi si formi una certa tempra morale coraggio e fortitudo in latino c'è una certa forza c'è la forza che vi permette di dominarvi di controllare il vostro corpo non è una forza brutta la forza brutta esplode ma reagisce in maniera meccanica è passiva la forza brutta io ti faccio qualcosa tu che non ti controlli reagisci ai forza brutta sei passivo sei un debole la forza è la capacità di controllare qualcosa di controllare un gesto di controllare un atto ecco che allora Platone sa che serve ascesis che con il cristianesimo abbiamo tradotto con ascesi ma che vuol dire allenamento ecco che l'allenamento diventa il modo in cui ad esempio io formo delle virtù morali resistenza alla fatica chi sono coloro che per eccellenza sanno resistere alla fatica gli atleti Platone nel modello di soggetto buono e bello cioè valente e moralmente valoroso ha come modello l'atleta però non si ferma lì non serve solo la prestazione atletica usa lui sta cercando degli strumenti sta inventando qualcosa che non c'era usa quella pedagogia perché l'ha formata su di lui sa che quando deve uscire dalla palestra e trovarsi nello stadio per i giochi pittici quando entri nello stadio tu puoi essere un filosofo che ha fatto tutte le discettazioni che volete sul coraggio ma avete la folla che urla intorno avete di fronte a voi un avversario tosto e sentite qualcosa qui quella parte dell'animo lì Platone l'ha indagata questa è fondamentale per il greco e sa benissimo che deve tenerla insieme con altre parti ma che da sole non governano l'intelletto nella repubblica ce lo dice se non si allea con le parti più blasse con il leone e con il mostro a più teste voi non funzionate Platone non vi dirà mai usate solo la cavalla bianca no dovete usarla voi siete una origa c'è la cavalla bianca ma c'è anche Tsumos Tsumos che è una parola bellissima del greco che anche Omero usa che vuol dire cuore vuol dire coraggio vuol dire forza è qualche cosa che pervade il soggetto che viene da parti più basse ma non sono parti più basse e svalutate perché se governate sono un'istanza di diunaristi di potenza che ravviva tutto il corpo e la mente la mente da sola per Platone non funziona ecco che allora lui sa che entrare in uno stadio implica governare tutte queste parti io faccio discorsi filosofici quando sono qui per me visto che sono abituato a farlo da tanto tempo non ho particolarmente ansia non faccio particolarmente fatica mi piace una zona di comfort tre settimane fa c'è anche mio figlio ho partecipato a degli incontri comincio ad avere una certa età mi piace vincere sono greco in questo non ho niente contro la vittoria la vittoria è anche importante bisogna saper affrontare anche le sconfitte quindi facevo proprio diverse cose tra cui la lotta dove si finisce poi a terra quando metto piede sul tatami tutti questi discorsi io lo ho in mente e tuttavia qualcosa qui si muove sono agitato ho paura non tanto di farmi male mi sono anche fatto male questo mio gomito perché ho resistito a una presa articolare e mi sono rischiato di rompere il gomito ho paura di fare brutta figura ho paura di cosa pensano le persone c'è mia figlia che mi guarda voglio essere all'altezza dell'ideale paterno che è in mente cosa è impossibile e tuttavia devi affrontarla quella però mi serve la filosofia anche ma mi serve il training che ho fatto mi serve essere andato a allenarmi in diverse palestre perché a un certo punto la mia palestra diventa zona di comfort allora devo andarmi a confrontare con altri in altre palestre ecco che Platone sapendo questo perché l'ha sperimentato crea questa filosofia come lavoro su di sé a tutti i livelli per essere migliori il più possibili per essere soggetti capaci di libertà cioè non è il dio che sceglie per noi siamo noi che scegliamo fine della repubblica quando le anime dopo un temporale scendono tra i fulmini per andarsi a incarnare non c'è un destino siete voi responsabili di quello che volete fare voi stessi come disse la professoressa delle medie di Mohammed Ali che cosa vuoi fare della tua vita lui era distratto non studiava era dislessico ma non lo sapeva non disegnava e sognava di fare il pugile lui rispose il pugile è stato un cattivo studente sì però aveva ben chiaro cosa voleva fare della sua vita però aveva un'idea di cosa voleva fare nella sua vita e l'ha portata avanti contro tutto e tutti Platone uguale aveva un'idea non è che gli dicono sì fai filosofia già oggi fai filosofia non farla lì non sapeva neanche cosa fosse faccio filosofia che cosa diavolo è no io prendo una palestra me la compra il mio amico poi dentro la palestra ci metto un po' di allenamento poi facciamo dialoghi sei rovinato in realtà lui fa questo e noi ne parliamo ancora oggi parliamo di qualcuno che ha avuto il coraggio di mettere in discussione un modello perché lui pensava fosse la cosa giusta da fare e ci si è dedicato con dedizione e fatica ecco perché chiede a voi fatica poi uno può decidere io non ho voglia di far fatica io voglio restare davanti allo schermo per tutta la vita decisione libera c'è però un ma ci sarà almeno un momento di quella vita in cui uno rischia di guardarsi indietro e di dire che cosa ho fatto della mia vita il problema è che se quella domanda arriva tardi c'è l'impianto e basta ecco perché giustamente la prof di Mohammed Ali gliela fece alle medie ma non perché non devi fare pugilato devi studiare sì, il professore giustamente dice quello ma il punto è decidi qualche cosa che vuoi fare ma se lo decidi dedicati veramente a quello sia attento ai minimi dettagli sia attento ai gesti abbi consapevolezza di quello che fai non lasciarti trascinare passivamente dalle cose perché ancora oggi vi sottopongono a questa fatica di una lezione di filosofia al mattino col sole col caldo che siete stanchi avete sonno eccetera perché anche se non farete mai filosofia vi può servire questa idea che voi avete in mano davvero voi stessi come un'opera d'arte da plasmare tecne tubiu termine di nuovo greco la filosofia è tecne tubiu è un'arte della vita è un'arte di plasmare voi stessi e siete voi a scegliervi tutti i dettagli e non piacerete sempre a tutti anzi molto spesso dispiacerete ad altri altra cosa con cui fare fatica soprattutto alla vostra età si tende a fare qualcosa che piaccia il più possibile agli altri se ho il bisogno di essere riconosciuto accettato cerco di vestirmi come gli altri tagliarmi i capelli come gli altri ci sta sta bene ma coltivate la vostra singolarità a discapito degli altri vivere nel giudizio degli altri sotto il giudizio degli altri con gli altri che vi plasmano al vostro posto o plasmando voi passivamente per incontrare solo il consenso degli altri rischia poi di nuovo di portarvi in una condizione ma chi sono io ecco la domanda socratica che vi dice ma chi sei? che cos'è per te la giustizia? che cos'è per te il bello? che cos'è per te il bene? ma chi se ne frega? puoi dire ma chi se ne frega ma stai dicendo ma chi se ne frega a quell'operazione di lavorare su di te? poi puoi fare qualsiasi cosa ma una certa grandezza si ottiene in questo modo io ho le scarpe ai piedi un paio di Air Jordan che mia moglie diceva non te le comprare ti prego sei ridicolo alla tua età e ha anche ragione il problema è che sono un simbolo per me di un atleta che incarna perfettamente questo modello di vita atletica parentesi quindi Platone nelle leggi vi dice saltate ricordatevi di saltare il nuovo altro cambio di postura per chi non fa una certa dimensione atletica non salta più nella propria vita saltare è occupare un altro spazio darci una sensazione molto potente chi fa arti marziali deve saltare continuamente deve imparare a fare i calci saltati ed è un'altra dimensione dell'esistenza Michael Jordan è qualcuno che per arrivare a quel livello di eccellenza non solo si allenava più degli altri ma addirittura un limite eccedente se veramente arrivava a torturare se stesso si racconta di una sua biografia bellissima che ormai campione pluripiemiato eccetera viene invitato proprio dal proprietario delle Nike per fare pubblicità le Jordan in una base militare in Germania ci sono dei militari americani fai una piccola esibizione per loro va bene quindi una cosa irrilevante non vedono dov'è Michael Jordan e dopo un po' quello della Nike lo va a cercare è nei bagni che prova delle cose e dice ma cosa fai qua? no ma mi devo riscaldare devo provare delle cose ma è un'esibizione per i militari no no ma non importa io devo dare il massimo anche qui quello si chiama mindset è una postura mentale in ogni contesto in ogni condizione è sempre l'occasione per provare a fare qualcosa che lascia un segno non è che bisogna essere eccezionali sempre ma prendersi cura di tutte le cose non lasciare le cose così ma lo faccio ma un po' così tanto oggi sono nella base militare sono Michael Jordan posso anche stare fermo avevo la pausa non gli basta perché? perché non gli basta? perché i militari avrebbero applaudito gli avrebbero detto sei un grande sei Michael Jordan per chi lo sta facendo Michael Jordan? per se stesso Platone la filosofia è questo dialogo interiore se sono sempre a dialogare con me stesso come un altro io mi metto alla prova ecco che superare se stessi è un modo per dialogare mettersi in gioco e in qualche modo crescere vado verso la conclusione non ho ancora nominato le idee si parla di Platone abbiamo parlato di Michael Jordan di lotta di combattimento del suo nome e le idee non le nominate per una ragione al punto di vista manualistico dopo un po' di introduzione si comincia a presentare la questione del mondo dei fenomeni le apparenze e il mondo delle idee il vero mondo ontologicamente superiore ai fenomeni e il rapporto sarebbe di coppia mi metti con mimesis delle idee i fenomeni e il movimento tramite la dialettica sarebbe quello di passare dal molteplice delle apparenze all'uno delle idee c'è questo elemento c'è e tuttavia Platone è di nuovo più complesso intanto questo concetto fondamentale le idee non lo definisce quasi mai dal punto che gli studiosi si dividono ma le idee sono in un mondo iperuraneo e poi ci sono i fenomeni e sono staccate ma se sono staccate come si rapportano? problema porie del rapporto tra le idee e il mondo dei fenomeni non mi interessa entrarci è una questione interessantissima ma molto tecnica c'è però un altro punto è vero che a fondamento della realtà ci sono le idee e questo lo trovate scritto in tutti i manuali però in un dialogo straordinario il sofista quando Platone va a definire l'essere ci spiazza al fondo non ci sono le idee o meglio c'è qualcosa di ancora più profondo e dice l'essere è dynamis cioè potenza di ricevere e potenza di agire l'essere è questa dynamis forza o potenza di agire o di patire ecco che al cuore del tutto e sta insieme alle idee poi ci sono tutti i modi per mettere insieme queste questo sistema però mi interessa questo aspetto che è in consonanza con quanto abbiamo detto se l'anima che non è un'idea ma è si avvicina ontologicamente ha una è una potenza di movimento le idee stesse e lo si vede nel timeo non sono perfettamente immobili e stabili perché entrano in un rapporto dialettico tra di loro è come se ingaggiassero battaglia tra di loro e al fondo di tutto questo c'è questa dynamis come forza di agire di patire ecco che la filosofia è elevazione sicuramente verso le idee cioè come capacità di fronte a un molteplice caotico di trovare un ordine un senso del mondo e questa è un'operazione che facciamo tutti o almeno che dovremmo provare a fare voi siete platonici quando vi ponete la questione a fronte di migliaia di informazioni che vi arrivano sul cellulare eccetera come stanno le cose cosa sta accadendo che cos'è giusto e sbagliato questa è fare filosofia poi non se avete filosofi di professione ma se non fate questo tipo di lavoro e ricevete passivamente semplicemente il molteplice di quelle immagini sullo schermo che poi sono le informazioni il mondo è un caos e voi andate dietro a come qualcun altro lo struttura ecco la vostra responsabilità di soggetti qual è la mia visione del mondo come lo strutturo come do forma e lì fatica devo raccogliere devo dividere proprio il movimento di sintesi e di aires devo mettere insieme un puzzle complessissimo da costruire per Platone il mondo è un puzzle che lui deve costruire per cercare un certo ordine ma attenzione non è un ordine statico fisso immobile non ama l'immobilità Platone anche a quel livello più alto c'è un elemento dinamico la filosofia è questa dinamica di pensiero di agire a tal punto che Platone dice e trovo che sia un passo bellissimo quando mettete in movimento il corpo e l'anima tenete conto che c'è un altro movimento con cui dovete entrare in connessione che è il movimento di questa roba qua di Okeanos che è un flusso che scorre lo trovate in Eraclito perché il fiume di Eraclito è Potamos e Okeanos ma c'è anche in Platone in questo passo quindi il filosofo non è qualcuno che intellettualmente sta fermo guarda le cose e le discerne è qualcuno che si mette in gioco meglio è qualcuno che cerca di entrare nella giusta dinamica proprio come un movimento atletico il movimento atletico è capacità di entrare in un flusso gli atleti contemporanei lo chiamano flu condizione di flu cioè quando arrivi a un livello per cui non devi pensare quello che fai ma sei in un flusso se sei un grande tegnista se sei un grande giocatore di pallacanesso se sei un grandissimo calciatore hai questa capacità mente e corpo sono tutt'uno ecco perché quei personaggi anche se non hanno a che fare col sapere con la filosofia sembrano quasi delle semi divinità poi sono costruite c'è tutto quello però c'è questa capacità di entrare in un flusso in un movimento e di dare forma a qualcosa e finisco su questo di bello ecco l'altra parola che usa Platone nel team mio non allenare mai l'anima senza il corpo nel corpo senza l'anima se vuoi essere al contempo bello e valente bellezza se diventa prigione estetizzante cioè se diventa una cura meramente superficiale di voi stessi rischia di essere qualcosa che vi fa male ma bellezza come capacità di coltivare in armonia la vostra personalità in tutte le sue forme è invece un compito straordinario portare bellezza significa già portare qualche cosa in una realtà che è sempre più abbruttita che si occupa sempre meno di creare armonia che guarda verso il basso perché pensa che le cose più basse e più semplici sono le più accattivanti ed è vero ma sono piccole prigioni le promesse che vi fanno è fai questo diventa questo ma a fatica zero puoi stare a casa seduto sul divano ti porto il cibo a casa stai a casa seduto sul divano ti alleni senza faticare questa è la promessa seducente che vi fanno la risposta è no grazie perché perché voglio fare un percorso perché non voglio semplicemente stare a casa perché voglio correre e andare fino alla palestra di Platone che allora è quello spazio materiale ma è anche un vostro spazio ideale dove potete cercare la parte migliore di voi stessi grazie una cosa per cui ho faticato la cosa per cui ho più faticato è stato il mio dottorato in filosofia perché io avevo vinto un dottorato in Italia a Genova e potevo restarmene tranquillamente a Genova vado a un convegno in Italia sul Lago d'Orta dove c'è questo filosofo che io stavo studiando che si chiama Derrida io faccio un intervento questo filosofo dice io sono d'accordo con questo ragazzo qui fuori mi chiede ma lei cosa fa il lavoro su di lei ha detto beh vieni a Parigi e dico sì ma no no vieni a Parigi io torno a casa e dico vado a Parigi i miei non avevano la possibilità di sostenermi economicamente a Parigi quindi riesco a vincere una borsa vado a Parigi per quattro anni Parigi è molto cara costosissima io avevo solo questa borsa del mio dottorato italiano e trovo una soffitta non in periferia però non proprio nel centro di Parigi dove non c'è riscaldamento ho i topi sui tetti ma lo scopro dopo una volta che sono entrati in casa sembra un po' una roba tra cenerentola e qualcos'altro però è la verità e io per quattro anni dormo nel sacco a pelo nel letto ho una stufetta ma non devo consumare troppo e quindi passo tutto il giorno in biblioteca alla biblioteca nazionale sono stati quattro anni per me meravigliosi ma faticosissimi faticosissimi perché avevo pochissima possibilità di soldi per lo svago quei pochi soldi che avevo compravo dei libri passavo le mie giornate in biblioteca andavo a lezione da Derrida che a un certo punto mi ha visto un po' non studiare troppo ma stai bene eccetera mi mandava dal suo amico pittore a cena grande pittore contemporaneo Valeria Dami perché si prendesse cura di me sono stati anni faticosi molto faticosi un dottorato francese è faticoso e molto spesso la gente abbandona non ce la fa diventa più anni cinque anni sei anni dottorati che durano otto anni io devo finirlo in quattro anni il dottorato e volevo anche che fosse un ottimo dottorato è stato faticoso sì oggi a pensare di fare oggi quello che ho fatto in quegli anni non lo potrei più fare devi essere un atleta giovane mentalmente per fare una roba così però è una scelta quello che mi hanno dato quei quattro anni di studio lo porto ancora adesso io non ho più occasione di studiare così tanto non ho più occasione di avere la biblioteca nazionale a disposizione che chiamavi al mattino al telefono ti facevano trovare i libri lì e stavi tutto il giorno lì con libri di tutti i tipi a scaffale o anche libri del cinquecento che potevi consultare quella è una condizione ideale ci arrivi attraverso colloquio devi fare un esame per poter accedere alla parte di ricerca della biblioteca nazionale sono stati già anni duri come qualsiasi atleta vi direbbe che sono stati anni duri della sua formazione avete visto Sinner il tenista italiano è andato a Sanremo perché? cosa ha risposto? mi devo allenare punto il mio obiettivo è quello fa una vita mondana è pieno di soldi? sì fa una vita mondana? no il suo obiettivo è quello diventare il numero uno poi magari non lo diventerà ma è giusto che ambisca farlo ed è una persona che dedica la vita semplicemente all'allenamento io oggi sono qua stamattina ho un esame di primo dan il 7 aprile sono venuto qua ma so che mi devo allenare se no il mio maestro mi boccia e finisce malissimo io pomeriggio se sono qui se vedete uno che corre in salita sono io andrò in palestra eccetera perché? perché a quell'obiettivo tengo anche se sono ho 50 anni quindi per me fisicamente è impegnativo eccetera però la più grande fatica è stata quella se però mi chiedessi qual è stata la tua più grande soddisfazione dal punto di vista intellettuale ti direi quel dottorato lì quando l'ho conseguito quindi e lì è stata una vera trasformazione per me me lo ricordo sì proprio per quel connubio lì fatica e poi dopo soddisfazione la seconda domanda era qui ed era le arti marziali io pratico adesso un'arte praticato quando ero più piccolo delle altre adesso pratico da diversi anni un'arte marziale coreana tradizionale che si chiama warando è un'arte marziale che comprende lo striking il combattimento a terra l'uso delle armi la meditazione il studio filosofico prima di ogni esame per accedere all'esame fisico tu fai un esame scritto anche mia figlia è anche lei cintura nera e fai un esame scritto per poter accedere poi a questo cosa tiene insieme le due cose tiene insieme il fatto che ho dei bravi maestri e li chiamo così perché tali sono che sanno benissimo che imparare a tirare un calcio un pugno non ci vuole tantissimo un fatto diciamo accettabile ci vuole tantissimo accettare invece mentalmente tutta una serie di cose accettare una sconfitta e imparare da una sconfitta accettare di confrontarsi con gli altri senza pensare che quando fai combattimento sei lì per sopraffare qualcuno coltivare la propria forza interiore come capacità di controllo le arti marziali mi hanno dato possibilità di far male alle persone sì faccio male alle persone no mi è capitato una sola volta nella vita perché qualcuno stava entrando in casa una sola volta nella vita le arti marziali ti danno il controllo di essere c'è una formula che mi piace gentili con tutti sottomessi a nessuno è un'arte della gentilezza se io studio tanto il combattimento non sono lì per andare a fare levo articolari eccetera sono per essere più gentile e disponibile con gli altri quindi lì mi insegnano qualcosa che per me è in consonanza col mio grande amore che è quello per la filosofia antica ritrovo uno spazio per me il tatami è uno spazio di verità l'ha detto una volta mio maestro e lì mi ha illuminato mi ha detto sì perché poi parliamo molto con lui parliamo di filosofia gli scrivo mail di notte ponendogli delle questioni eccetera e mi dice tutto questo va benissimo ma il momento di verità è quando sei sul tatami tu puoi presentare te stesso come il più bravo il più preparato sgallettare come si dice negli spogliatoi eccetera il punto è che poi a un certo punto ti misuri con la verità sul tatami io in quel combattimento dove mi sono fatto male al braccio pensavo di vincere l'oro sono arrivato secondo mi brucia ancora adesso mio maestro ha detto non ci dormirai per tutta la settimana tu per questa cosa perché perché incontri una verità che è fastidiosa perché la verità quando la incontri è fastidiosa non è alla misura delle tue attese di quello che ti aspetti del tuo pensiero qualcosa che ti sorprende come un colpo allora l'arte marziale educazione a misurarsi quando arrivano queste verità ma Foucault grande studioso del novecento che si è occupato a un certo punto di filosofa antica dice Platone parla di allenamento perché allenarsi nel combattimento significa allenarsi a ricevere i colpi nella vita non sul tatami e lo stesso direbbe il mio maestro ma non è importante è un gioco quando combatti sul tatami puoi farti molto male ma non è la vita ti allegni lì per dominare l'arte quello che avviene fuori le arti marziali tradizionali orientali sono questo in oriente nessuno può pensare a una filosofia che non coinvolga il corpo che non coinvolga la vostra respirazione noi respiriamo malissimo ad esempio pensiamo male perché respiriamo anche male perché abbiamo delle posture le neuroscienze ci dicono che posture diverse vi fanno pensare in modo diverso lo trovate già scritto in Aristotele in altre filosofie dell'antichità a secondo il modo in cui siete fisicamente voi pensate in un certo modo quindi quella filosofia mi dà nuovi modi di pensare perché mi allena imparare posture ogni volta differenti anche posture scomodissime che però sono molto interessanti imparare un calcio allora non è imparare solo a dare un calcio è imparare a pensare in modo nuovo il vostro rapporto mentre corpo quindi in questo senso per me le due cose sono sempre in parallelo e cerco di trasmetterlo come forma di educazione anche a mia figlia che è un'educazione per me molto greca per me è un'educazione di tipo platonico platone per me è vivo in questo senso sul sulla fatica se ci rende soli in qualche modo mi ha detto no allora lì è una parte secondo me interessantissima che ritrovate anche platone tutta questa dimensione dell'allenamento è sempre in connessione con altre persone il dialogo che è una forma di lotta è una connessione con altri se io non ho uno sparring a dialogare o a combattere io non mi elevo non faccio fatica il punto è che nel momento in cui lo faccio sono in connessione con l'altro ma sono anche molto solo perché il lavoro su di me io lo faccio con l'altro ma anche in solitudine totale perché non posso arrivare a condividere tutto e l'altro non può trarmi d'impaccio non può supportarmi fino a un certo punto ma poi la fatica la devi fare tu nessun altro può faticare al tuo posto in questo senso la fatica è un richiamo alla tua singolarità gli altri possono fare altre cose al tuo posto è benissimo è verissimo tu puoi comprarti una cintura nera puoi comprarti una laurea in filosofia e puoi comprarti tutto quello che vuoi perché qualcuno ti dà i soldi o perché qualcuno lo fa per te l'esame eccetera eccetera benissimo sei arrivato a una condizione superiore no hai comprato un titolo arrivare a una condizione superiore la puoi fare con qualcuno che si allena per te no la fatica lega alla tua singolarità se non la faccio io non miglioro punto è questo che è particolarmente difficile perché noi cerchiamo sempre supporto da qualche parte nei genitori negli altri eccetera ma questo non lo posso fare io per te posso starti vicino fino all'ultimo ma non lo posso fare per te mia figlia ha fatto un esame di cintura nera ci siamo allenati insieme ha avuto varie peripezie si è rotto un piede durante un salto con un calcio saltato eccetera è andata avanti io le sono stato vicino ma non potevo continuare a resistere per lei ha fatto da sola non potevo fare l'esame per lei ed è giusto che l'esame al mattino infatti sia a porte chiuse è lei da sola con i suoi insegnanti che sono tosti ti richiedono tanto perché se ti regalano qualcosa non ti regalano niente in realtà se invece ti spingono a faticare da solo e a arrivarci da solo ti possono spronare ti do tutte le motivazioni che vuoi poi però ti devi alzare e andare a fare quella cosa mi ricordo e lo collego perché per me è un'esperienza che faccio dall'esterno e che provo anch'io in quanto padre vedo la fatica e la solitudine dell'altro esame di cintura rosso nera se non erro lo spinghi quando rompevi la tavoletta marrone esatto c'è una tavoletta lei deve fare un salto girato saltato e spaccarla col piede mentre si gira su se stessa è una cosa abbastanza complicata c'è una tavoletta lei ha tre salti se sbaglia tre bocciata è la fine dell'esame ha fatto tutto perfetto avete queste tre prove se no bocciato primo salto la manca secondo salto la manca lei avevi ogni 9 anni va verso la tavoletta perché era alta l'abbassa un po' io pur con tutta la mia roba filosofica la fatica eccetera ci sta il maestro impassibile dice non sei tu che devi alzare la tavoletta abbassare la tavoletta sei tu che devi saltare più in alto rimetti la tavoletta dove era la rimette là e io dico mamma mia questi orientali coreaniche lei sta ferma quasi un minuto alla fine salta spacca sta tavoletta è andata bene è finita bene il suo maestro le ha dato tanto l'ha messa da sola di fronte alla difficoltà contando sul fatto che lui era fiducioso che la superasse ce l'ha fatta questo le ha dato tanto se avesse abbassato la tavoletta l'avrebbe spaccata sarebbe stata contenta ma non avrebbe fatto quel passo ecco quindi che sì la solitudine la fatica è il momento in cui solo tu puoi fare per te quelle cose è importante che ci sia qualcuno vicino a te però non devi essere totalmente abbandonato secondo me avere un docente un istruttore un amico è importante cioè io sono qui però lo devi fare da solo e quello che e chiudo su questo insegnavano i maestri zen che sembrano sempre dei pazzi totali avete in mente quelle storielle zen l'allievo va dal maestro e dice maestro voglio imparare no tu devi imparare a fare rumore con una sola mano come si fa non devi domandarlo bastonata vattene torna tra tre anni va torna dopo tre anni maestro ma il movimento non è ancora imparato bastonata vattene torna tra tre anni poi alla fine trova la risposta e uno potrebbe dire ma che diavolo di maestro è non insegna niente lo manda via gli da le bastonate il punto è questo ti sta dicendo che il lavoro lo devi fare da solo ma tu sai che puoi tornare tra tre anni tra dieci tra venti il maestro che ti potrà anche dare solo una bastonata però c'è ecco questo c'è qualcuno che c'è che ti aspetta però il momento del lavoro su di te non lo può fare per te l'ultima domanda eh no la prof mi aveva chiesto sì la volontà allora se usassi una terminologia antica cioè platonica prima ancora Aristotele sarebbe un'altra cosa direi no non la volontà non userei la parola volontà perché sarebbe filologicamente storicamente non non corretto ehm detto questo eh c'è il problema di del coraggio come capacità di armonizzare nella decisione anche le parti più emotive del nostro animo cioè trasforma è una sorta di trasformazione del sentimento della paura in una certa forza io devo aver preso la decisione su cosa è giusto però non ho l'atto di volontà che è veramente qualcosa come una un movimento del soggetto che decide è qualcosa che arriva e che mi porta a partire per questo da un allenamento Sloterdijk che è un filosofo contemporaneo tedesco nel libro devi cambiare la tua vita mostra molto questo elemento per il greco più che l'atto di volontà che è un atto singolare c'è il movimento della ripetizione dell'aschesi nel momento in cui sono abituato a fare tante volte quel gesto nel momento opportuno quel gesto arriva mi viene come un atleta mentre se lavoro molto sulla volontà sono su una capacità interiore di prendere la decisione giusta lì invece lavoro sulla ripetizione nel momento in cui sono tante volte allenato a prendere quel tipo di di decisione virtuosa quando arriverà il momento in qualche modo accadrà quasi spontaneamente abbiamo eh è un esercizio è un esercizio per questo occorre esercizio certo che poi questo passando e poi la poi chiudo veramente passando per il cristianesimo diventa anche un esercizio di rafforzamento della volontà eh l'aschesis l'ascetica l'ostilita eh è uno che lavora moltissimo a forgiare la propria volontà come capacità di rinuncia ma sta lavorando sul corpo tantissimo anche lui e lì però entrano nuove categorie concettuali sì per il greco per Platone non userai la parola volontà grazie 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 grazie